Venezia è un casino. Venezia è l'opposto del bello e delle cartoline. Venezia è un colossale casino. Un conflitto di linguaggi, di storie, una città che è diventata grandissima nella vivacità del confronto, del dibattito politico. Era una Repubblica, sostanzialmente il Doge mica contava niente. Sì, contava perché rappresentava, ma gli aprivano anche le lettere al Doge. Il Doge non aveva nessuna autonomia. Era il simbolo della unità della Repubblica. Quelli che contavano erano i patrizi e i patrizi lottavano tra di loro, erano in conflitto tra di loro. Era la dimostrazione di quello che dice Machiavelli, che il conflitto è produttivo, che il conflitto va bene, che il conflitto non ha nulla di negativo. Quando il conflitto è per Venezia, è per Roma, quando il conflitto ha un fine comune, quando i duellanti hanno un fine comune. E quindi Venezia è questo. Allora c'erano i patrizi che si facevano nelle stesse epoche, c'è il patrizio magniloquente, tradizionale, retorso, si fa l'accadoro, che tutti ammirano. Pittura, pittoresco. E c'è quello che invece vuole il palladio, vuole il San Micheli, vuole il San Sovino. E allora da un lato lotta. Come ricostruiamo Palazzo Ducale? Come facciamo il Ponte di Rialto? Con palladio, linguaggio alla romana, linguaggio nuovo, umanistico, rinascimentale? Un partito politico. L'altro partito lo facciamo secondo le forme tardogotiche, secondo le forme fiorite, secondo i padri, secondo la tradizione. Allora ti saltano fuori le grandi chiese del palladio, che non hanno cittadinanza al centro, allora le mettono sulle isole. Al centro, Palazzo Ducale, però tuttavia il partito che vuole il linguaggio classico, si fa di fronte a Palazzo Ducale, in polemica con Palazzo Ducale, la libreria del San Sovino. La gente va e dice, guarda che bello, che armonia, madonna. Sono dissenti, risonanzi, conflitti. Il conflitto è bello, il polemos è bello, ed è il padre di tutte le cose. Dove non c'è polemos, non c'è bellezza e non c'è neanche grande vita politica, grande vita civile. Venezia insegna. Grazie. 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 Grazie.